Si è svolto due giorni fa l'incontro a Palazzo Zambra a Chieti nella sede della Soprintendenza regionale per l'archeologia e le belle arti per discutere del restyling dello stadio Adriatico Cornacchia, incontro che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 16 giugno ma poi rinviato per l'assenza di un tecnico. Presenti la dottoressa Mencarelli e l'architetto Pezzi per la Soprintendenza, il professor Varagnoli per il Ministero della Cultura, il sindaco di Pescara Masci e i presidenti del Pescara Sebastiani e del Coni regionale in Bastaro. Come riferito in una nota dal primo cittadino Carlo Masci la riunione si è conclusa con l'impegno di tutti di costruire in tempi brevi un gruppo di lavoro formato dai tecnici dei rispettivi enti per costruire un percorso condiviso di ipotesi progettuali che permettano di dotare Pescara di uno stadio all'avanguardia senza cancellare la sua memoria storica e architettonica. In odile superare per procedere alla riqualificazione dello stadio restano essenzialmente due, il vincolo architettonico sulle colonne dell'urbanista Luigi Piccinato e la presenza della pista d'atletica quale elemento caratterizzante l'impianto. Ma oramai l'indirizzo dell'UEFA è proprio quello di far disputare gare in arene prive di pista per una migliore fruibilità dello spettacolo. Nello stadio Adriatico Cornacchia andrebbe dunque adeguato a queste disposizioni. Tralasciando l'ipotesi di un nuovo stadio, un progetto era stato presentato tre anni fa ma non ci sono mai stati sviluppi, nel cassetto è stato riposto da tempo un altro progetto studiato dalla Pescara Calcio per il restyling, poi arenatosi di fronte alle istanze della soprintendenza. Il dialogo ora riprende con la speranza di superare le fasi di impasse del recente passato. C'è stata un'apertura in questo ultimo mese grazie all'intervento del sindaco Masci e abbiamo fatto questo ulteriore incontro dove si è stabilito di ricreare un tavolo tecnico per capire un pochettino se c'è la possibilità di rimettere in piedi un progetto sullo stadio attuale che contempli le esigenze del vincolo, dei vincoli che ci sono ma che contempli anche le esigenze di chi poi dovrà fare l'investimento perché è evidente che l'investimento si deve reggere altrimenti nessuno si metterà in mente di farlo. Il prossimo step è cercare di trovare la possibilità di incontrarsi per capire quali sono le esigenze o meglio le prescrizioni della soprintendenza e quali sono le nostre esigenze riportate su un progetto che deve essere sostenibile.